Per quel che riguarda gli ammortizzatori sociali, noi sappiamo che abbiamo in delega una norma specifica di riforma che dice già chiaramente come ci orientiamo. Dice che manterremo gli ammortizzatori essenziali, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, c'è l'ASPI, uno strumento per chi perde in termini definitivi il lavoro, e abbiamo aperto un capitolo che è tutto da scrivere che riguarda gli interventi a valle, quindi quando sono finiti gli ammortizzatori, noi in questo paese non abbiamo una strumentazione, chiamiamola così, di politiche sociali sufficiente, quindi dovremo trovare una modalità per chi non ha reddito o ha un reddito molto basso per superare quella fase, perché noi andiamo ad esaurimento, altrimenti ci capita l'operazione opposta, cioè dobbiamo trascinare in eterno gli ammortizzatori sociali e siccome non abbiamo le risorse economiche e finanziarie per farlo, si apre un problema, quindi da questo punto di vista mi pare di poter dire che la delega è molto chiara. Sugli ammortizzatori in derog, noi abbiamo predisposto un'operazione che per il 2014 ha ricostruito la copertura finanziaria che era prevista nella vecchia legge, nell'attuale legge di stabilità che prevedeva un miliardo e 400 milioni per coprire la cassa integrazione in deroga. Con le risorse che abbiamo reperito, noi andremo ad avere a copertura della cassa integrazione in deroga per il 2014 un miliardo e 670 milioni, quindi abbiamo aumentato i circa 300 milioni di coperture, avendo contemporaneamente pagato 800 milioni di euro di arretrati del 2013 che non erano coperti. Quindi io credo che dal punto di vista della volontà di questo governo di coprire le ammortizzatori sociali non ci possano essere assolutamente delle discussioni.